Svolta storica cortona che per la prima volta passa al centro-destra. Il nuovo sindaco della città è Luciano Meoni, sostenuto da tutte le anime del centro-destra, attrazione leghista ma cui hanno dato un notevole contributo anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Io sono il sindaco di centro-destra, però sono il sindaco di una lista civica che poi è stata appoggiata da tutto il centro-destra e da oggi mi sento il primo cittadino di tutti, quindi sarò il sindaco di tutta la popolazione. Ad uscire sconfitto al ballottaggio Andrea Bernardini, già assessore della giunta dell'ormai ex sindaco Francesca Basanieri. Meoni ha infatti trionfato con il 51,7% pari a 60.024 voti. Bernardini si è fermato a 5.627 voti pari al 48,3%. Come funzionano tutte le democrazie? Quando una forza politica, sia essa di centro-destra, di centro-sinistra, governa da tantissimi anni un territorio, la stessa diventa lassista, non propone più, non lavora più, perché chiaramente il risultato arriva a prescindere. E allora il popolo ha capito che il territorio, le frazioni sono state abbandonate. Quindi io ritengo opportuno questa scelta, non perché sono io oggi qui come sindaco, ma per la democrazia e sono convinto che tra cinque anni, se io avrò governato con la mia squadra bene, è giusto che venga rieletto, altrimenti è giusto che vada a casa anche io personalmente e se tornassero loro sono convinto altresì che farebbero molto meglio di quello che hanno fatto prima, perché questo è un ruolo fondamentale, è una rotazione fondamentale per la democrazia. Gli obiettivi, i primi obiettivi quali saranno? Gli obiettivi? L'organizzazione della macchina comunale, e quindi costruire una squadra coesa e competente come assessori e poi dopo ci metteremo subito al lavoro per mettere in alto il nostro programma. Come abbiamo detto, punteremo molto sulla sanità, sul decoro urbano, punteremo molto sul riportare internamente i servizi come i cimiteri, come la gestione della COSAP, oggi TOSAP, punteremo molto sui paesi, Camuscia, Toronto e Mercatale, Centro Storico Cortona. Voi, della sua squadra, ci sono già dei nomi? No, abbiamo fatto dei saggi esterni, una consulta esterna per dare consigli. Adesso stiamo ragionando con i partiti che mi hanno appoggiato, come è ovvio che sia, perché è chiaro che ora dobbiamo usare quelle che sono le dinamiche politiche, però la squadra comunque sarà una squadra forte, coesa e competente. Quale una cortona avete da quei cinque anni? Spero di vedere una cortona più fruibile, più pulita, è un territorio più amico dell'amministrazione, è un territorio che vede, come dire, l'amministrazione disponibile ad ascoltare, quindi vedo bene.